Il comune denominatore di tutto il mio lavoro è la Coorta. Sviluppo ogni progetto in maniera multimediale, multisensoriale e sicuramente con un'attenzione all'ecosostenibilità. Una persona curiosa che ha voglia di mettersi in gioco. Sono i tortelli burro e salvi a Piacentini. Per la manualità con la quale sono fatti, sono piccole sculture. Le ninfee di Claude Monet sono sicuramente un pezzo che mi rapisce. Fin da piccola sono sempre stata molto più all'estero che in Italia parlando diverse lingue e entrando a contatto con diverse culture. Quindi quello è sicuramente intrinseco nel mio lavoro. Mi dicono giocassi con dei giochi in maniera non convenzionale e rispondevo a chiunque mi chiedesse cosa stessi facendo che stavo creando un paesaggio. Roping è una parola che io ho coniato proprio per parlare dell'importanza della corda nel mio lavoro. La corda è un'estensione del mio corpo. Quindi roping è il mio unico modo di riuscire a esprimere questo concetto, da rope ovviamente in inglese. che è quello della mia meditazione. Quindi molto spirituale, è una connessione mente-corpo. Tutto quell'ordine, quel rigore, quel candore, quella spiritualità che c'è in Oriente mi serve per riequilibrare. Quindi oggi è diventato fondamentale. Soprattutto visto la frenesia e la velocità con cui va il mondo. Il blu Eve Klein